Musica BlockCene è stata descritta in molti modi ma in realtà non è altro che un orologio affidabile gestito da centinaia di migliaia di parti intorno al mondo senza nessuno che possa centralmente modificarne l'ora. Dico un orologio nel senso che lo scopo primario di una blockchain non è come si dice quella di conservare informazioni e trasmetterle, per questo esiste già internet, non è quello di certificare la provenienza di informazioni, per questo esiste già la firma digitale, ma è quello di certificare la cronologia relativa, l'ordine di alcuni messaggi. Grazie a questa potenzialità, quindi quella di essere essenzialmente un orologio, la blockchain per la prima volta permette a reti distribuite non solo di passarsi messaggi, cosa che facevano già prima, non solo di passarsi messaggi firmati, cosa che facevano già prima, ma di passarsi messaggi firmati e di essere d'accordo sull'ordine dei messaggi. In questo modo la blockchain può veicolare non solo informazioni, come si faceva con internet senza blockchain, ma può veicolare finalmente valore. La differenza è fondamentale, l'informazione è una cosa che io posso dare e si moltiplica all'infinito ogni volta che la do, invece la proprietà, il valore, è qualcosa che io trasmetto perdendolo e che la mia controparte può ritrasmettere perdendola, quindi è scarsa. Sulla base della scarsità è possibile costituire contratti, scambi, mercato, incentivi, disincentivi. Questa cosa non esiste nel mondo del digitale prima di blockchain, blockchain è quella cosa, quella invenzione che mancava, un pezzo di internet che mancava per portare la scarsità del mondo fisico, dei dobloni d'oro fisici all'interno del mondo digitale che non aveva mai avuto questa caratteristica. È importante perché è importante che il mondo digitale possa fare disruption di tutti quanti i mercati che sono intrappolati, reggimentati, incrostati da monopoli o da inefficienze. Internet lo sta facendo molto bene su vari mercati, non poteva farlo al meglio sui mercati dello scambio, del commercio e della finanza, perché lì non c'era solo da passare informazione ma c'era da passare valore e quindi internet era limitato, era meno matto, doveva passare da enti centrali facilmente controllabili e censurabili. Invece con blockchain abbiamo una internet del valore che è incensurabile, immodificabile e incontrollabile. Il futuro di blockchain, quindi di bitcoin, che è la blockchain, così come internet è il protocollo TCP a packet switching, è uno solo, anche se in teoria ne potremmo avere molti, ma in genere il mondo converge verso un protocollo di rete. Allo stesso modo bitcoin è la blockchain che ora sta sperimentando gli effetti di rete che le permetteranno di essere il linguaggio universale dell'internet dei valori. Nel futuro sarà molto probabilmente qualche cosa che dominerà il settore, innanzitutto del risparmio, della protezione del risparmio, della riserva di valore, quindi dove una famiglia da prima magari venezuelana potrà tutelare dei propri risparmi, poi un grosso investitore europeo potrà eggiarsi contro l'inflazione o contro i rischi di controparte delle banche in occasione di un nuovo 2008 in cui le controparti fiduciari si rivelano non degne di fiducia e invece alcune controparti saranno liberi di detenere autonomamente le proprie riserve di valore. Poi nei pagamenti, cominciando da quei settori dove i pagamenti oggi sono più censurati e censurabili, pagamenti internazionali che sono soggetti a troppi balzelli o divieti o vari tipi di frizioni create principalmente da questioni geopolitiche, pagamenti per questioni di libertà come può essere una donazione a Wikileaks che non si può fare altrimenti, oppure pagamenti nell'e-commerce dove la fiducia della controparte è difficile da costruire, tant'è che noi siamo limitati a interagire con poche controparti nell'e-commerce, con blockchain e con bitcoin, non dobbiamo più fidarci della controparte per poterla pagare e di conseguenza è la moneta perfetta per l'e-commerce. In futuro possiamo immaginare anche invece la disruption vera e propria della finanza, quindi contratti derivati e automatizzati senza controparti centrali, assicurazioni automatizzate, possiamo immaginare un intero mondo finanziario che non ha bisogno di controllare le parti centrali. Sono arrivato ad occuparmi da due direzioni, la prima è quella più di conseguenze sociali ed economiche di questo tipo di innovazione, quindi sostanzialmente bitcoin, il primo asset che può essere detenuto con indipendenza dalle banche centrali dal punto di vista dell'inflazione e della manipolazione del valore e indipendenza dai controllori dal punto di vista del controllo delle transazioni, del controllo orwelliano sulla nostra libertà finanziaria. Dall'altro punto di vista invece l'altro lato di approccio è quello tecnico, la blockchain comunque è un tour de force tecnico che continua ad aprire nuovi orizzonti perché è un abilitatore, in realtà è una piccola innovazione tecnologica e un'enorme innovazione economica, però permette a cascata di sprigionare una serie di innovazioni tecnologiche che erano impossibili senza questo tipo di premessa. Ho messo insieme queste due passioni, mi sono reso conto che sia il mio interesse per l'economia e per i trend di economia e di innovazione permissionless, sia i miei interessi estrettamente tecnologici dal punto di vista di sistemi di pagamento e sistemi fintech coincidevano in un unico solo grosso nome che è bitcoin, ma che per questioni di presentabilità sociale in questo momento dobbiamo chiamare blockchain. Un ponte tra due mondi, il mondo di quello che esiste oggi, che è un mondo pieno di comunque qualsiasi sia la struttura che lo caratterizza, è un mondo più di risorse, di conoscenza del mercato, conoscenza dell'industria, di persone che stanno su questi sistemi che devono essere traghettati verso il futuro, quindi un mondo che ha risorse e che cerca conoscenza, conoscenza che non è facile da trovare, perché semplicemente è ancora nuova, appartiene ad un'elite molto distretta di persone e molto sparpagliata nel territorio internazionale, è anche caratterizzata da un mindset che rende molto difficile approcciare gli esperti, perché diciamo che sono parecchio anti-sistema quelli più bravi. Dall'altra parte abbiamo invece un mondo di esperti che è caratterizzata appunto da una necessità di struttura, da un'incapacità per ora di convergere su standard interoperabili, di capire le necessità dell'impresa, una certa ideologizzazione che conduce, che oscura le dinamiche di business. Sono due mondi che hanno bisogno l'uno dell'altro ma che non possono interagire direttamente, non vogliono interagire direttamente. L'industria finanziaria tende ad assumere gli scarti degli esperti blockchain, gli esperti blockchain tendono a lavorare con le parti marginali e non interessanti dell'industria finanziaria. Quello che è blockchain lab è un ponte che garantisce alla comunità di esperti blockchain risorse, spazi comuni, scambio, massa critica di informazioni, di progetti, anche risorse economiche e in cambio, dall'altra parte, garantisce all'industria, in cambio di queste risorse che usa per la comunità di esperti blockchain, garantisce informazioni che non si possono trovare altrove. Informazioni aggiornate in tempo reale, approfondite al massimo livello tecnico, su come funziona oggi la tecnologia e su cosa diventerà questa tecnologia da qui ai 10 anni. In realtà si chiama Bitcoin, anche se come avete visto ieri sarebbero parlati in gran parte di Ethereum e di Zcash, quindi siamo aperti a molte innovazioni che hanno seguito il Bitcoin nel generico spazio della blockchain, quindi c'è un'apertura oltre lo specifico protocollo ed è in realtà nato, eravamo mi pare alla 36esima edizione, se non sbaglio il numero, questo vuol dire che sono incontri mensili, li facciamo da molti mesi, abbiamo avuto ormai quasi tutti i grandi esperti mondiali, abbiamo avuto qui passare dal nostro Lab, Adam Beck, Rusty Russell, Matt Corallo, Sipa, Joseph Poon, Elizabeth Stark, Peter Todd, tutti i nomi più rilevanti che si possono fare, Ryan, Shee, sull'innovazione in questo campo sono stati qui e hanno fatto un meetup pubblico. Grazie.